ciao ragazzi oggi presentiamo un nuovo strumento di aquila string è uno short bass il modello è lo one 14 basic è uno strumento che si può suonare sia acustico che elettrificato acustico suona così ora lo proviamo elettrificato un nuovo strumento di acqua Per eventuali informazioni o per provarlo fate un salto in negozio o scrivete al sito di The Music Store. Ciao e grazie.